Bene a tutti e grazie a questo nuovo video di Becchio Secondo me è buono Aspettate Ok, bene a tutti e grazie a questo nuovo video di Becchio Oggi siamo con la roulette E con Danny King Ciao 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 Allora Oggi giocherò la roulette Chi riempie prima i cosi I cosi I cosi Le si mettono le molete Vinte Vinte Vince, vince Vinceremo subito Vado Io mi scommetto 10 euro Io mi scommetto 120 euro No Un soldo Si può fare Poi aumentando Ah ok Allora 50 euro No Tu pari E io Su queste due cose Aumenta da dove? No 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 Niente Le formate da subito Ventisette E dispari E Ventisette Non è su qualsiasi Dei caronne Quindi abbiamo perso i per due Ok Quattro è una 50 euro Però Su un nero Io Di nuovo 50 euro Spesso Dei caronne 21 euro Non sono serviti 19 euro No 19 euro 19 euro No 21 euro 22 Com'è? E' nego, io ho vinto No, io ho vinto Tutte e due Tutte e due Quindi se tu e io si devo dare 500 euro Quindi ho vinto E dai Venti, venti così Venti, venti Romana, prima la metto io, cadi tu Ehi vabbè, lo metto così. Fatto, allora. Poi diamo 50 euro su queste due colonne. E io su uno. Ci muo da euro. Ok. Le due colonne. Allora, tutte le due. Tutte le due sono. Fatto. Maria, io lasco. Non lo dobbiamo. Ui. Uno. Uno. Sì, pregno. Che bello. Ragazzi, però è difficile, capito? Non troviamo un numero in cui... Cioè, perdiamo uno. Perdiamo. E vinciamo tutte e due, Luiz. Io ho 150 euro. Aspetta, non iniziati. Pregno, un po' di... Non piace, voglio stare là. Non capisci. Sì, ferma. Sette. Sì, sì. Che bello. Tre. Tre. Che bello. Che bello. Capite. Capite. Eccolo. Guarda, non è il consiglio. Lado. Diciasette. Tredici. Tredici. Sì. Guarda, c'è un conto? No. Sì. Perché sono le tue 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 le tue. Sì. 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 Venti. Due calonne. Tre. Venti. Ma questo è molto difficile. Per farmi vedere. Mi sa fai così. Allora, venti, quattordici. Sì. Venti. Venti. Ok, stiamo continuando bene. Ladri, ti aspetta lì. Espetta lì. Bisogna fare così. Perché non sono il divino? Mi è rubato. Ladro. Non è rubato niente. E poi c'è. Vediamo se non sono uguali. No. Oh, non so perché. No, è nervato. Ma non è vero. Devi dare due. 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 Ah, non so. No, voglio vedere. Sono uno, due, quattro e cinque. Uno, due, quattro e cinque. No, dia. Dai. Uno, due, due. Sì, ciascuno. Sono giusto? Dai, vediamo. Sì. Dunque tu, che è un cazzo non è buono? Sì, si può fare una cordella di amendo. No, era riscaldamento quello. Ah, allora. Ah, che è un cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. No. Perché sono chiacchio. No. Non sono un euro. Sì. Ah, carote. Tutte. Non lo bollis. Ah, dopo lo lo giustiamo. Sì, va bene. Non lo, io ho 20 euro. Non lo, io ho un piste metto. E' un di cinque. Dei, io sbaglio qua. E' un di cinque. E' un cinque, quattro. Sì. Sì. E' un di cinque. E' un di cinque. Tu dai, vedi, io c'è vantaggio. Bugia. Perché tu hai con le monete? Uno, due, tre, quattro. Ma no, poche. E' un massimo, massimo quattro. Dai, facciamo così, massimo, massimo. Massimo cinque. Ok. Dai, mi ricordo tu. Zero? Sì. No. Cinque, sì. No. Sì. 33. No. Se ci saldi. Devevo perdere. Se ci saldi. Sì. Quattro. Sì. Abbiamo vinto. Quindi, raga, è nato, non si stai calcando mica. Tu sei tenzato solo a giocare. Quindi, raga, è finito. Amici, aspetta che vi rubo. E' difficilissimo fare il segno. Aspetta, mentre Davide fa sti cuse, il telefono è caduto. Di nuovo. Di proviamo un'altra volta. Una volta ancora. Di proviamo, dai. Questa. Ah, non fa cadere più il cuse. Ok, faccio il fine del video. Ma sai, non ti toccare. Ma io sono tuccare. No, non è quello che stai facendo. Ti mangi. Ti mangi. Ok, vai. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque. Aiuto. Aiuto. Non ho tenuto così. Fatto. Fatto. O me. E' già me. E' già me. No. Sono quello di me. E' perché? Me, me. Allora io mi aggiungo questo. Is. Aiuto. Perché tu era no, non è valido. Quello, quello è me. E tu hai preso il coso arancione di più. Ok, ma... Così sono fatte. Sono fatte. Questo sono. Sono fatte. Santo. 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 Beh, scusate, te le puoi sconverte. Fatto. Eh, io mi faccio tre euro. Anzi, quattro e cinque. 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 Da. Che cos'è? Venticinque, venticinque. Sì. Come abbiamo? Qui. Venti, cinque. Mi stiamo vincendo sempre. Ragazzi, è una cosa assurda. Ok, ora prendiamo ognuno con... Oh, non mi se ne toglie. Ognuno con i suoi soldi. A dove prendi i soldi? Ah! Quanto è mio! Questo è mio! Tutti questi sono... Fatto. Tutti li hai fatto! Grosso! Che vero! Che attivo! Questi? Questo è mio? È mio! Oh, è così. Questo sta qua. Ok, contiamo i soldi? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, contiamo i soldi così. 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18 euro, 18 soldi. No, i soldi, devi vedere quanti euro. No, non vale così, no, non vale, perché sono un pic. Sono un pic. No, ma sono, sì, ma sono fuchi, sono tutti un euro. Ah, ma non fa niente. E sono tutti un euro. Allora, ora dobbiamo vedere chi ha più soldi. Eh no, allora, tu 18, 18? 18. 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21. No, allora, devono essere fatti. Eh sì, è perché abbiamo sempre vinto un euro. No, 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 e poi soprattutto una volta si è scommessa di nero. Allora, quindi pure io 18, 19, 20, 20, è 21. Perché? Perché erano fatti. No, perché se non avessi scommesso di nero. E' scommesso 5, 20. Quindi mi toglie. Hai intanto tutto. PANEL! 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 Allora, aspetta, dobbiamo vedere qua. Dobbiamo vedere quanto manca. Dobbiamo vedere. Ciao. No! Che bello che devo. Ciao. Che bel sushi. No! No! Aiuto! Aiuto! Aiuto!